Ospiti che prego di accomodarsi, Gulince, Ina Pretorius, prego, no, tu Gul se ti metti di qua, Ina Pretorius con la sua interprete Federica Pisano e Jasmina Tesanovic. Allora, prima di presentarvi più diffusamente le nostre ospiti e entrare poi nel merito dell'incontro di questa sera, anch'io consentitemi di ringraziare Saverio Gaeta e Leggendo Metropolitano che veramente sta diventando di anno in anno un festival sempre più bello e importante e come concorso di lingua madre sono molto felice che noi si abbia avviato questa collaborazione che ci porta qui stasera e poi domani con un altro incontro invece incentrato sul silenzio e insieme all'Accademia del Silenzio. Sì, abbiamo questo sole che ci abbraccia. Allora, il concorso di lingua madre, lo dico brevemente, è un concorso, è un progetto della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino ed è destinato alle donne straniere residenti in Italia con una sezione per le donne italiane che vogliano raccontare le straniere. è un progetto che negli anni siamo arrivati alla non edizione, quindi nove anni di attività, si è poi evoluto, è diventato qualcos'altro oltre che un semplice concorso letterario e quindi un insieme di laboratori, incontri così come quello di oggi, collaborazioni in giro per l'Italia. sostanzialmente quello che rappresenta il concorso è uno spazio per dare voce a chi abitualmente non ce l'ha, quindi gli stranieri ma in particolare le donne che nell'ambito della migrazione, se vogliamo, sono discriminate due volte in quanto straniere e in quanto donne. è quello di creare quindi essere uno spazio da una parte a disposizione senza filtri, senza interpretazioni, semplicemente uno spazio aperto e per gli italiani e le italiane un'opportunità di ascolto. Infatti il concorso non solo consente ma incoraggia la collaborazione tra italiane e straniere laddove non dovesse esserci questa dimestichezza nell'italiano scritto. La premiazione viene nell'ambito del Salone del Libro e c'è appena stata a maggio e ogni anno pubblichiamo poi il libro con una selezione dei racconti che arrivano al concorso. Ecco questo molto brevemente poi ogni altra informazione la potete trovare sul sito www.concorsolinguamadre.it o sulle pagine facebook e twitter. L'incontro di oggi si lega molto bene al tema di leggendo metropolitano di quest'anno, i legami, accogliere l'altro e si lega molto bene con l'attività e la presenza delle ospiti che abbiamo qui oggi. Inizierei questo colloquio di questa sera proprio con Gulince che è la vincitrice del concorso Lingua Madre di quest'anno. Gulince viene dalla Turchia, è venuta in Italia per studiare e qui dove tuttora vive, si è anche sposata recentemente, si è laureata in letteratura spagnola e inglese. Ha già scritto, al concorso si rivolgono donne molto diverse tra loro, non solo per età ma anche per provenienza, attitudini, eccetera. E quindi c'è chi per la prima volta si avvicina alla scrittura, chi come nel caso di Gulince invece già ci si dedicava, ecco magari non proprio così assiduamente, però insomma non era una pratica a lei estranea. E poi svolge servizio di interpretariato negli uffici pubblici, negli ospedali, nei tribunali, oltre a occuparsi dell'orientamento degli studenti stranieri in Italia. E ha vinto con un racconto che si intitola Mare vuol dire Denis, che parla proprio di un incontro fra donne, perché il pensiero che sottende tutto il progetto del concorso è il pensiero della differenza e nel racconto di Gul i temi del pensiero della differenza emergono molto chiaramente. E quindi a lei lascio la parola. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il Festival per l'invito e per questa veramente bellissima organizzazione. Allora come ha detto Daniela io sono qui in Italia dal 2007 e in tutti questi anni, particolarmente dopo il concorso, abbiamo fatto varie interviste, mi è stato sempre chiesto come straniera, come mi trovavo in Italia, oppure siccome anche lei è straniera, cosa pensa sulla questione dell'immigrazione, sulla questione della cittadinanza? Io a queste domande ho risposto ben volentieri, però oggi, stasera, qui non voglio parlare da straniera, visto che nella vostra bellissima Sardegna mi sento veramente poca straniera, oggi voglio parlare soltanto da donna, quindi voglio lasciare a parte questa identità, non perché non mi piace, però siccome mi sento poca straniera, oggi parlerò soltanto da donna. Allora, quando Daniela mi ha detto che eravamo invitati in questa organizzazione, sono andata a vedere di cosa si trattava, perché non sapevo niente. Ho visto che il concetto del Festival era, come sapete già tutti i legami, che ho detto, ma è proprio bello, perché coincide molto con lo scopo del nostro concorso, che appunto lega le storie delle donne straniere a quelle delle donne italiane, oppure le storie delle donne straniere alla società in cui vivono queste donne. Poi sono andata a vedere giustamente cos'era il concetto del nostro dibattito, raccogliere l'altro, e ciò che voglio fare stasera qui è legare sempre appunto questi due temi del concetto generale del Festival a quello del nostro dibattito, utilizzando sempre in mezzo il mio racconto. Allora, il mio racconto, come ha accennato anche Daniele prima, narra la vicenda di due ragazze che devono lasciare il proprio paese, che è Turchia, con il passaporto falso per raggiungere il futuro sposo. Praticamente si può dire che parla di un matrimonio combinato. Il titolo Mare vuol dire Denis, le persone che non hanno letto la storia mi chiedono sempre ma cosa significa questo? Infatti adesso Daniele, gentilmente ci leggerò una parte del racconto dove si capisce perché si chiama questo modo il mio racconto. E' tutto pronto? Domani partiamo. Mi hanno dato un passaporto, sopra c'è la mia foto, ma il nome è di qualcun altro. Non mi chiamo più Elif, il mio nome è Deniz. Deniz, che bel nome. Mare, vuol dire Deniz. Mio padre stasera è venuto a dirmi che durante il viaggio non sarò da sola, ci sarà un'altra ragazza con me. Anche lei va in Germania, ma diversamente da me lei rimane là. Invece io vado prima in Germania e poi in Italia, dove il mio futuro marito mi aspetta. Domani, domani saremo due spose. Due spose illegali, senza mariti, né matrimoni. Come vediamo anche da questa parte del racconto, queste due ragazze in fondo non si conoscono. Giorno dopo soltanto devono affrontare questo viaggio veramente difficile, con un'identità, con un nome falso, che questo viaggio veramente fa paura a tutte e due ragazze. Quindi non si conoscono forse, però hanno delle cose in comune che legano queste due ragazze. Che uno, innanzitutto, viaggio illegale che devono affrontare. Poi ci sono delle identità false, dei nomi falsi. Un futuro sconosciuto, però per di più, l'ultima cosa, però forse è più importante che lega queste donne, sono donne. Infatti, più in là vedremo che tra queste donne nasce un'amicizia che può nascere soltanto tra due donne. Infatti, se leggiamo la parte penultima del racconto, vediamo come nasce questa amicizia. Adesso c'erano solo quattro persone davanti a noi. Avevo cominciato a tremare pure io. Cosa avrei risposto se ci avessero chiesto qualcosa? Quando fumo davanti al poliziotto, lei aveva smesso di piangere, ma stava sempre dietro di me. Diedi io al poliziotto i passaporti. Le mie mani erano congelate. Il passaporto controllò il visto, guardò prima la foto, poi me. Dopo mise il timbro e me lo restituì. Con le mani mi fece capire di spostarmi, voleva vedere la faccia della ragazza. Io mi spostai contro voglia. Avevo paura che lei scoppiassi a piangere. Quando mi mossi, lei prima si girò verso di me e io con gli occhi le chiesi di girare la testa verso il poliziotto. Grazie a Dio girò la testa. Il poliziotto la fissò e poi controllò la foto ed il visto. Mise il timbro e le restituì il passaporto muovendo le mani per dire va bene, puoi andare. Era finita. Eravamo in Germania. Ritirammo i bagagli, seguendo sempre altre persone, e ci dirigemmo all'uscita, dove il suo fidanzato l'aspettava. Erano arrivati anche le mie due sorelle con i mariti. Prima di andare via la ragazza venne ad abbracciarmi. Per un attimo ebbi la sensazione che non volesse andare con il fidanzato. rimanemmo a lungo abbracciate e fu il suo fidanzato a dirle basta adesso andiamo. E così andarono via. Dire la verità, quando io dico che il mio racconto narra oppure parla di un matrimonio combinato, un po' mi dispiace perché dicendo così mi sembra come non dicessero, oppure come nascondessero veramente la vera emozione di questo racconto. In quell'istante, quando due ragazze si abbracciano, tra queste persone, tra queste donne, nasce un'amicizia molto profonda. Nasce un'amicizia che ha delle caratteristiche femminili, un'amicizia basata sull'accoglimento femminile, che sa fare solo una donna. Quindi la ragazza non vuole andare con il suo futuro sposo, non perché ha paura soltanto del suo futuro, perché si sente accolta. Si abbracciano in modo talmente profondo che non vuole lasciare questo accoglimento, perché noi siamo fatti così, non solo le donne, tutti gli uomini sono fatti così. Vogliamo stare dove ci sentiamo accolti. Punto, grazie. Con questo ci si collega molto bene a quello che diremo tra poco con Ina Pretorius. Ina Pretorius sono molto felice che sia qui con noi stasera, sono onorata della sua presenza, perché è una teologa svizzera, docente di etica teologica all'Università di Friburgo, ma soprattutto è una delle maggiori rappresentanti del femminismo teologico militante, radicale, e parte attiva all'interno dell'Affert, che è l'Associazione delle Teologhe Europee, ma soprattutto ha suscitato da sempre grande interesse e la sua competenza dell'esserci. In particolare ricordo uno dei suoi testi, che è stato tradotto in italiano dai quaderni di Via Dogana, che è Penelope a Davos, il cui sottotitolo recita Idee femministe per un'economia globale. Ecco, noi alla premiazione di quest'anno al Salone del Libro, alla premiazione del concorso Lingua Madre, abbiamo avuto presente la ministra Cecile Chienghe, che ha detto alcune cose molto importanti, quindi la sua presenza è stata per noi, al di là che è un importante riconoscimento, proprio anche, ecco, importante, per quello che ha detto. Intanto vi ricordo che quando è stata eletta ha detto chiamatemi la ministra nera, perché è questo che sono, ed è in nome di questa verità, ecco, che vorremmo parlare questa sera, in particolare nel suo libro Inapretorius, afferma che occorrerebbe guardare al mondo come a un ambiente domestico di cui prendersi cura. E in questo, da, in questo soffersiero, la strada per poter cambiare le cose. Quindi lei assegna il primo posto a un'economia della natalità, della consapevolezza, perché sostiene non c'è vita senza una matrice fatta di aria, di acqua, ma anche di affetti, di parole, di riconoscimenti. E su questo io le darei la parola. Buongiorno, hallo, grazie per la invitazione e anche per la domanda che mi sono state postate. Ja, übersetze da schon mal. Intanto vorrei a tutti voi augurare buonasera, ringrazio di cuore per essere stata invitata qui, nonché per le domande che mi sono state poste ora. Die Geburt ist etwas, was sowohl in der Theologie als auch in der Philosophie sozusagen nicht gedacht wird. Wir Menschen bezeichnen uns selber als Sterbliche, das kennen wir, dieses Wort, aber wir bezeichnen uns nicht als Geburtliche und suchen Sie mal in einem theologischen oder philosophischen Lexikon etwas über die Geburt. Sie werden fast nichts finden und das obwohl wir jedes Jahr Weihnachten feiern, also wir feiern die Geburt Gottes, aber wir denken das nicht. Allora, una cosa molto importante che vorrei dire che riguarda effettivamente la questione della nascita è proprio il fatto che sia nella teologia che nella filosofia non si pensa tanto alla questione della nascita. Effettivamente definiscono gli esseri umani come degli esseri mortali, ma non si parla proprio degli esseri che nascono. Vi invito a guardare in qualsiasi enciclopedia filosofica e non troverete niente nonostante ogni anno tutti noi festeggiamo Natale che effettivamente è la nascita di Cristo e di Dio. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das eigentlich, dass wir geboren sind? Es bedeutet, dass wir alle aus einer sehr engen Bezogenheit kommen, die in den ersten neun Monaten sogar im selben Körper stattfindet. Und dann verlassen wir diesen Körper, werden aber dadurch nicht unabhängig. Matrix, haben Sie ja schon gesagt, Matrix heißt Mutterleib. Und wenn wir aus der Matrix austreten, dann werden wir nicht frei, wie uns das die Filosofen der Aufklärung gesagt haben, sondern wir werden frei in abhängigkeit. Also schon frei, aber frei in abhängigkeit. Allora effettivamente che cosa significa il fatto che noi siamo nati? Effettivamente ci dimentichiamo ogni tanto che noi stiamo per nove mesi nello stesso corpo di un altro essere vivente, dopodiché noi lasciamo questo corpo. La matrice di cui forse si è già parlato è appunto la definizione del corpo materno. E noi da questo corpo a un certo punto ci liberiamo, ma non ci liberiamo per diventare veramente autonomi. Noi ci liberiamo in una reciproca dipendenza. in nostra è appena il nostro vizio che si è in nostra cultura in der Mitte als mark teilnehmer, ma ausgehend vom zeugling, der gerade auf die Welt kommt und abhängig ist von allem. effettivamente abbiamo sempre pensato a due concetti opposti, cioè la libertà o la dipendenza, quindi esistevano nella storia i signori, i padroni e gli schiavi. Tutti noi effettivamente vogliamo essere liberi, ma in realtà possiamo essere liberi, cioè la libertà esiste soltanto in una sorta di dipendenza e questo pensiero dovrebbe fondare un nuovo tipo di economia, cioè non più un'economia in cui l'essere adulto è effettivamente il centro del mercato, ma effettivamente l'essere umano sin da neonato è libero nella dipendenza da altri esseri umani. Und damit komme ich jetzt zu der frage die Sie gestellt haben, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann kann es mit einem Markt, mit Geld und diesen austausch prozessen zunächst mal überhaupt nichts anfangen. Ein Kind kann nicht etwas für Geld kaufen, das dauert einige Jahre bis das Kind überhaupt mit dem Geld in Beziehung kommt. Und das bedeutet für mich die primäre ökonomische Instanz ist nicht der Markt, sondern das ist die secundäre und das ist eigentlich vollkommen logisch, aber wir haben das vergessen in unserer Gesellschaft. Beziehungsweise Effettivamente quando noi nasciamo non abbiamo nulla a che vedere con il mercato con il denaro e questo vale per tutta una serie di anni nessun bambino è in grado di comprare o di vendere qualcosa effettivamente ci vogliono alcuni anni prima che l'essere umano sviluppi un rapporto con il denaro ed effettivamente questa è una cosa che tendiamo a dimenticare che l'economia come noi la intendiamo è un fattore secondario e non primario e la l'economia o l'economia i no lo l'economia e questo è un Satz che gli economi non vogliono perché gli economi rechneranno con un unabiettivo il mercato che si può sempre riuscire e questo è un realistico perché siamo tutti tutti i lufti di Wasser, di Erdo e di Beziehungen di Liebe, di Zuwendung come i piccoli Kinder siamo tutti in una Matrix e da qui è stato l'haushalt è il primario e il mercato è il secundario e questo è un po' tra state e questo brevemento il reato tra me è benissimo sotto sopra ci arrivo subito allora questa nuova economia o meglio vecchia economia è effettivamente una si può riassumere in una frase che a me piace molto cioè siamo tutti dipendenti dall'assistenza assistenza è una parola che effettivamente non piace molto agli economisti gli economisti amano pensare a esseri umani che sono in grado di agire in un libero mercato, ma in realtà non è così, tutti noi dipendiamo da qualcosa perché ci serve un'aria pura, ci serve l'acqua, ci servono delle strade che funzionino, ci serve l'affetto e così via quindi effettivamente tutti siamo dipendenti e di conseguenza l'ambiente domestico è l'ambiente primario, l'ambiente fondamentale in cui comincia tutto e in questo senso è necessario creare una sorta di sconvolgimento di sottosopra come ha appena sottolineato l'autrice. Grazie, ecco anche nell'ambito della migrazione l'analisi del fenomeno continua ad essere affrontata sempre secondo gli schemi accademici classici e per questo da due anni nell'ambito del concorso Lingua Madre un gruppo di studio formato da docenti italiani e straniere sta proprio lavorando per cercare di dare attraverso i racconti quindi tutto questo materiale che è arrivato in nove anni al concorso di cercare di dare una lettura diversa anche del fenomeno migratorio che tenga conto di questa nuova grande presenza femminile soprattutto in un paese come l'Italia dove sono soprattutto le donne ormai ad essere protagoniste della migrazione e quindi vorrei chiedere a Ina Pretorius se proprio questo discorso che già ha introdotto il fatto che le donne siano predisposte ad accogliere l'altro da sé, ad averne cura a far sì che sviluppi una propria autonomia così come hanno proprio come quale modalità propria di stare al mondo la relazione prima della norma, la responsabilità prima della convenienza, la cura dei rapporti prima della giustizia astratta ecco, non crede che tutto questo imprima alle donne anche un atteggiamento diverso nella gestione dell'impensato, dell'altro, del diverso e quindi che quando due donne si incontrano prima dell'origine, della religione, del paese di provenienza, eccetera quello che percepiscono è appunto di essere donne Carla Alonzi diceva, le donne si riconoscono appartenere alla stessa specie, diceva addirittura grazie a tutti i nostri amici sono. È una conseguenza della stessa costruzione di lavoro che faccio, quindi faccio la simbolica ordine. Non so ne so che sono, cosa sono le donne. Le donne hanno certi culture, hanno già aprenduto di lavorare in casa, di essere più attivo, ma come le donne sono, non lo so. Effettivamente non sono in grado di dare una definizione della donna in quanto essere. In Germania c'è stata una discussione. È una discussione piuttosto accesa sul fatto che si potesse o meno definire una determinata o più determinate qualità proprie delle donne. Ci siamo anche chieste vogliamo veramente coltivare questo tipo di tendenza o vogliamo rifiutarlo in toto. In effetti personalmente io credo di non voler dare una definizione di donna con determinate qualità e aspetti. Piuttosto come è già stato detto ci troviamo alla fine del patriarcato. Siamo in una fase di sconvolgimento sotto sopra. e pertanto questa discussione per me non deve essere coltivata se ci siano determinate qualità che siano proprio di uomini o di donne. A livello empirico effettivamente ci sono determinate qualità che si attribuiscono alle donne, il fatto che sappiano ascoltare meglio, il fatto che siano pronte a fornire assistenza all'altro, al fatto che si riconoscano anche come oppresse. Ma che noi vogliamo continuare a definire la donna tramite queste qualità non saprei. Personalmente forse no. Allora proprio sulla cosa del patriarcato e la frana del patriarcato che continua a franare come ha scritto Luisa Muraro sull'ultimo numero di via Dogana. Ecco, lei dice recentemente un papa ha dovuto dimettersi per non finire burattino nelle mani dei suoi collaboratori. Così i nostri politici continuano a mentirci solennemente. E le donne entrano nel teatro della politica di volta in volta in primo piano o dietro le quinte a seconda delle convenienze. E anche quando vengono messe in prima fila, questo non risponde a verità, no? Ma lo si fa perché conviene. Quindi se pensiamo che la politica sia la politica delle donne, scrive Muraro, allora dobbiamo darle la consistenza delle conseguenze. Generare realtà e portare la finzione al giudizio della realtà. Lei è d'accordo con questo? E come pensa che questo possa avvenire? E come pensi che questo possa avvenire? Ja, è passato già. Wenn Sie sich überlegen, was vor 30 Jahren war oder 40 Jahren, dann sind wir jetzt als Frauen doch schon an einem anderen Ort. Also wir haben viel erreicht. Und was jetzt in Italien so passiert ist, ich traue mir kein Urteil über die italienische Politik zu, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so etwas wie ein letztes Aufbäumen, ein ziemlich starkes Aufbäumen des Patriarchats ist. Questo succede già, in effetti se pensiamo a come fosse la situazione 30 o 40 anni fa vediamo che effettivamente si è già raggiunto un progresso molto notevole, effettivamente per quanto riguarda l'Italia io non voglio permettermi di fare giudizi di sorta, non so però che comunque sia anche l'ultima radice per così dire di un albero che sta venendo estirpato gradualmente. Io personalmente sono fiduciosa che la politica delle donne abbia un certo punto luogo, credo che ci sia già in molti sensi e in molti posti, di fatto dobbiamo rifare amicizia con il concetto di verità, effettivamente si tratta di una parola molto grande, molto forte ma credo che sia il caso anche di porre fine al cinismo che in questo mondo è fin troppo e in particolare nella politica, lo dico da persona cristiana e personalmente penso che sia fondamentale mettere fine a questo fenomeno e confrontarsi con la verità e spero che la politica delle donne sappia in questo senso impegnarsi in particolare. Allora vorrei dirvi tre frasi che a mio parere sono vere. La prima frase è che Dio non è un uomo. La seconda frase è che tutti noi siamo dipendenti. E la terza frase è che il mondo è un ambiente domestico. E sarebbe un bel progetto da queste tre frasi cominciare a fare politica. Su questo aspetto di reinventare il reale, Jasmina Tesanovic può dirci molto, lei femminista, attivista politica, scrittrice, giornalista, traduttrice, regista serba che in Italia, così come in molti altri paesi, ha iniziato ad essere nota, conosciuta soprattutto perché autrice del diario di un idiota politica che aveva scritto, che è stato tradotto in dodici lingue, un diario di guerra scritto durante il conflitto del 99 in Kosovo. E da allora pubblica tantissimo su blog, su altri media, in rete, tiene una rubrica su il quotidiano la stampa globalisti a Torino. Insomma, ecco, spostiamo quindi il discorso al web, alla rete, a questa nuova opportunità che forse mi viene da pensare, ne accennavo prima con Jasmina, non è poi sfruttata come potrebbe essere, perché forse il potere dominante ci si rapporta sempre appunto nel solito modo tradizionale, classico. Mi veniva da pensare come gli uomini potenti continuino a muoversi da tutte le parti del mondo per trovarsi in un'altra parte lontanissima da tutti e fare i loro incontri, in un'epoca in cui potrebbero sicuramente stare a casa loro e guardarsi in uno schermo. E quindi non riescano a pensare come la condivisione, che è uno degli strumenti che ci viene offerto appunto dalle nuove tecnologie e dalla rete, sia un elemento di sviluppo. E su questo darei la parola a Jasmina, che dovrebbe avere... Buonasera a tutte, perché soprattutto vedo le donne qua, sono molto... guardo veramente quasi... non è che descrivano... però i maschili lavorano, le donne le vedo proprio qua. E allora come prima cosa vorrei prendere io questo aggeggio qua, che ho l'iPhone, che sono... prendere una bella fotografia di voi, una bella fotografia di voi e postarla perché è in diretta subito a tutti, perché voglio dire proprio iniziare da questa cosa qua, no? Per dirvi... adesso la luce non è proprio buona. Comunque abbiamo passato quattro stagioni qua, eh? Con lo sole, col vento e tutto... Allora, io partirei proprio dal punto di vista di un'attivista femminista, che sono stata da sempre, eh? Non mi ricordo almeno quando ho iniziato e spero di smettere, perché nel momento che smetto vuol dire che le cose cambieranno, oppure che le donne giovani, come mia figlia, come lei che è l'età di mia figlia, riprendono e mi lasciano in pace, no? Comunque, mi ricordo tanti anni fa, quando facevo la mia prima lezione da attivista ai studi delle donne a Belgrado, no? Che durante la guerra, eh? Durante la guerra dell'ex Jugoslavia, dove la Serbia era praticamente l'aggressore, e noi lo sapevamo, no? Quindi c'entravamo di fare un po' le cose pacifiste, perché gli uomini non li facevano, purtroppo, e noi donne prendevamo le redini in mano per fare una specie di... Allora dicevo questa cosa, il secolo ventesimo ha fatto più passi per la liberazione proprio della donne, no? Di tutti gli altri precedenti secoli, grazie a due cose. Grazie alla contraccezione, uno, è la tecnologia. Cioè, grazie a queste cose, noi donne non siamo più, diciamo, non c'è più questo concetto della natura, della donna diversa, della donna debole, della donna madre, ma noi abbiamo adesso la libertà di scelta, no? E questa tecnologia, che è partita, per me è diventata molto importante, perché io sono online da vent'anni, no? E sono praticamente la prima blogger al mondo, prima che esistesse ancora la parola blog, no? Perché ero una pacifista che mi facevo sentire, non solo me, ma anche le altre donne, senza il mio nome, da una zona di guerra per dire, per raccontare una storia alternativa, che il mainstream, che i uomini, che quelli che facevano la guerra, da tutte le due parti non facevano presente al mondo, no? E se non ci fosse per questa tecnologia, credo che molte cose non sarebbero cambiate, perché io lo facevo online, lo facevo immediatamente, il tempo reale, no? Dopo molti anni, ormai si fanno, lo fanno tutti, e meno male che lo fanno, no? La tecnologia di questo tipo ha cambiato la mia vita, e non solo la mia vita, ha cambiato il mondo, si chiama la terza rivoluzione, praticamente. Adesso quello che io, rispondendo alla tua domanda, no? Quello che vorrei dire, è che il mondo, il mondo della tecnologia, cioè il mondo online, il mondo virtuale, rispecchia quello che è il mondo reale, non è che adesso questo mondo di per sé è diverso, è diventato praticamente una zona di conflitto e di lotta e di guerra per il potere, perché lì in questo momento sta il potere grande e stanno i soldi grandi e c'è la distribuzione. Noi, dall'altra parte, degli utenti che usiamo queste cose perché ci cambiano la vita e ci danno il potere personale, ci personalizzano, ci danno un linguaggio nuovo, ci danno una presenza nel pubblico, immediata, ci danno il contatto fra di noi che non ci conosciamo, ci danno una nuova lingua dove la lingua nazionale, madre, paterna, patriarcale non importa più. Cosa dobbiamo fare a combattere questa nuova battaglia, dove di nuovo sono i vecchi padroni, quello che dobbiamo fare è stare attente, stare veramente attente di mantenere il nostro profilo personale, di non essere abusate e usate i nostri dati personali, però bisogna essere intelligenti e saperle usare, perché non possiamo stare fuori dalla storia tecnologica, non possiamo, perché non possiamo entrare nel medioevo e lasciare di nuovo questo nuovo motore della storia, anche se non ci piace, anche a volte se preferiamo non essere online, saremmo tagliati fuori. Io in realtà non lo farei mai, però so che molte donne hanno questa cosa tipo dire, io non mi interesso della tecnologia, preferisco il contatto reale, però per guidare una macchina non bisogna sapere cosa c'è dentro la macchina. Per usare questa cosa qua non bisogna costruirla, no? Se la volete costruire va benissimo anche quello, però basta prendere la mano, non avere paura, non chiedere a nessuno che te lo dia, non chiedere... Adesso la domanda seconda, dimmela, che vado avanti, io faccio la... No, infatti era proprio su questo, no? Che ogni tanto viene fuori insomma questo discorso di chi vorrebbe mettere delle tutele a favore delle donne proprio nell'ambito appunto della rete, dei social network, eccetera. Non può insomma il discorso che si fa nei confronti della violenza contro le donne, no? Dove però, ecco, questa cosa di rivendicare protezione mette comunque le donne sempre dalla parte delle vittime e nella parte di chi chiede un riconoscimento che gli deve venire, no? Da qualcun altro. Mentre invece forse occorrerebbe essere più assertive e invece guardare alle opportunità di uno spazio come questo libero. Sì, dunque il vittimismo è una categoria molto molto pericolosa, insomma bisogna mai giocare. Per la protezione, insomma, per quello che ci arriva bisogna anche riconoscerla e prenderla. Però quello che io so, senz'altro, e sono abbastanza vecchia per dirlo con sicurezza, è che nessuno ti darà il potere, non te lo darà nessuno. Uomini femministi, politici femministi, gli credo meno, gli credo meno quelli sciovinisti perché non sono sinceri. Il potere va preso, va preso con la coscienza, con la responsabilità e subito, cioè subito quel pezzo di potere che hai, che sai controllare, di cui hai bisogno, dove ti senti frustrata, dove ti senti discriminata, bisogna reclamarlo subito e totalmente. E di questo non c'è, non bisogna mai pensare due volte. Io dico sempre anche alle ragazze giovani, non avete paura, perché se non lo prendete non ve lo darà nessuno. E se non state attente, per esempio negli anni 70 le vostre madri, ancora prima, le vostre nonne hanno conquistato delle cose che voi state perdendo adesso, perché non ve ne rendete conto quanto subdolmente va preso sotto i voci. Cioè bisogna stare attenti che non perdete quelle cose che le vostre nonne e madri hanno pagato in sangue. E non bisogna aspettare che nessuno ve lo darà servito, al contrario. E a proposito di questo, siccome anch'io ho una figlia adolescente, i tragici fatti di stalking che insomma anche recentemente sono accaduti in Italia, ma non solo in Italia, mettono in luce anche un altro aspetto dei social network, della rete. Che se da una parte è un nuovo spazio, una nuova libertà, dall'altra però in qualche modo viene a costituirsi, ci riflettevo in questi giorni e ne parlavo appunto con te prima, viene a costituirsi come un ambiente chiuso, così come nei paesi, era una volta ma è anche ancora oggi, che se vengono date delle etichette poi quelle rimangono. Quindi lo scemo del villaggio rimane scemo del villaggio tutta la vita, la ragazza di facili costumi rimane così tutta la vita e così via. E il passaggio invece alla città, alla metropoli, aveva dato invece proprio questa grande libertà alle persone, e soprattutto alle donne direi, anche dell'anonimato se vogliamo, però della libertà di poter scegliere la compagnia che si voleva e rimanere appunto anonime, quindi non poter essere etichettate. Non trovi che un po' ci sia questo rischio nell'ambito dei social network? No, no, assolutamente perché credo che ci sono tanti pericoli della rete, però non quella del... L'ideale è del villaggio globale in realtà, perché tu sulla rete soprattutto hai la possibilità di farti amicizi, amicizi che fisicamente non avresti potuto, puoi farle in tante lingue, puoi farle con persone molto lontane. Poi questa cosa, tu puoi crearti anche il personaggio, tu puoi andare anonima sulla rete, cioè tu non devi darti il tuo vero nome, i veri dati, c'è anche questa cosa qua, no? Quindi io non credo che sia un pericolo veramente questo qua di diventare... Anzi, c'hai di più l'anonimato, c'hai più la libertà, c'hai più il contatto di uscire dal tuo... E quello che credo sia molto importante per le donne, che per me è stato importante come scrittrice, come una persona che è vissuta in tutto il mondo, quindi non ho avuto una lingua madre, non ho avuto una patria, cioè le ho avuto ma erano tutte teoriche, cioè praticamente non l'ho sentito. Io credo che le donne non appartengono alla cultura nazionale, le donne anche importantissime scrittrici, erano sempre, era sempre un cadere nel vuoto, tipo Virginia Woolf ne parla appartamente, Karen Blixen un'altra che ha scritto non nella lingua madre, no? Cioè quindi per le donne è molto importante uscire dalla cultura nazionale, che di per sé è una cultura nazionale e nazionalista e maschile. E con questo non voglio dire niente di male, solo che io per esempio mi ricordo il mio primo libro, l'ho scritto aggiungendo i caratteri femminili e cambiandoli nei classici mondiali che mi piacevano tantissimo. Però leggendo i caratteri femminili, tipo l'Anna Caregnina che mi piaceva tantissimo, mi dicevo cavolo però non si comportano le donne così, insomma. Il mio amico, un carissimo amico serbo, importante scrittore, no? Che ha scritto questo romanzo dove una donna partorisce, in certo punto quando partorisce, appena partorito il bambino, prende un libro e lo legge. Dico ma che donna prende un libro e legge quando c'è il neonato che appena... Guarda il bebè, no? Dice che assomiglia, ma quanto è brutto, ma sai quelle cose lì, quanto mi ha fatto male. Cioè un scrittore è realista, eh? Allora a questo punto dico per le donne è molto importante avere un mezzo che non sia nazionale e nazionalista e maschile e questa cultura, anche questa cosa della lingua, no? Il fatto che noi possiamo scrivere, io preferisco scrivere in una lingua che non è mia perché mi dà più distanza, no? Posso usare delle parole in maniera diversa, no? In un contesto diverso, cioè io per esempio in questo momento scrivo in tre lingue, no? Però auguro tutte le donne di cambiare la lingua e di uscire dalla propria lingua. Poi magari tornandoci indietro però avrei un'altra visura, no? Questo è importante per tutti gli scrittori, però credo che per le donne è essenziale nel senso che trovi un'altra, come dire, è un'apertura di coscienza. Tu trovi a questo punto la tua lingua che è diversa e l'internet, per esempio l'internet ti libera molto dal concetto e grammatica scolastica della letteratura che a me mi dava sempre fastidio, no? Il canone, il canone mi dava fastidio, non perché non mi piaceva, ma perché non me lo sentivo come mio, la mia voce non c'era. Leggendo sull'internet tutte queste voci anonime di persone che non devono andare attraverso la struttura tradizionale, istituzionale di pubblicare un libro, tu a un certo punto vedi che anche quello è letteratura, no? Solo è che non è stata mai riconosciuta come tale perché è fuori dei canoni, no? Io vorrei a questo punto anche chiedere magari qualche domanda, non vorrei prendere tutto il tempo. Sì, volevo solo far dire una cosa a Gul, proprio su quanto dicevi tu, perché la rete è stata anche fonte per i giovani, e adesso, proprio recentemente, in Turchia, di cambiamento, no? E quindi, Gul, che se le passi un attimo, e quindi su quello che sta avvenendo in Turchia in questi giorni. Ciò che oggi, in questi giorni, da una settimana che va avanti questa storia, ciò che sta accadendo in Turchia in questi giorni, è veramente molto adatto anche al nostro tema del dibattito, l'accoglienza, perché noi, grazie all'internet, grazie alle foto scattate e subito condivise nel tempo reale, siamo riusciti a capire che quelle persone che protestavano il governo, perché erano, come si dice, state tolte dalle loro ribertà di espressione, non erano così cattive. Se noi avessimo visto, invece, questa protesta attraverso la media, che noi abbiamo visto, abbiamo ascoltato tante storie, noi abbiamo costruito la nostra storia attraverso questa televisione, che le persone hanno finalmente accettato, ma noi abbiamo visto attraverso questi canali la nostra storia, abbiamo imparato così, allora c'è qualcosa che non va, perché quelle persone che protestano adesso non sono così cattive, e noi riusciamo a percepire questo grazie alle foto, grazie ai video che vengono condivise subito. Io veramente mi sono commossa tantissimo, perché ho visto dei medici che curavano i feriti gratuitamente, e queste foto, questi video non avremmo mai visto nella televisione statale, oppure anche quelle private che non hanno, per tre giorni, non hanno trasmesso nulla. Noi, le persone in Turchia, quando è scoppiata questa rivolta, hanno guardato un documentario di pinguini, ma dice che in Turchia sta cambiando proprio il sistema, e le persone che non hanno questo mezzo tecnologico, stavano guardando questo documentario, che veramente fa pena. E c'è una donna in rosso. È diventato il simbolo, infatti, e questa, che è molto interessante, questa rivolta è scoppiata grazie anche alla violenza sproporzionata dalla polizia. Se avete visto quella foto, la ragazza non fa nulla, soltanto passa davanti ai poliziotti, la polizia va con il lacrimogene e spruzza proprio sulla faccia. E noi non avremmo mai visto questa foto, non avremmo mai saputo, se non ci fosse, con le persone benedette, che ha fatto quella foto, ha messo subito il sottifizio su Facebook. Se ci sono delle domande, ben volentieri le nostre autrici sono qui e rispondono. Io intanto, su sollecitazione di quello che diceva Jasmina, cercavo di mandare anch'io in diretta i tweet sulla rete. con le mie difficoltà. Quindi, ripeto, se ci sono domande, beh, faccia la domanda al microfono. No. No. E però non posso, gli altri non sanno che cosa ci chiede se lei non lo fa al microfono. ho sentito da parte della che Dio non è un uomo. In che senso questo non l'ho capito? In quale, in qualche senso? In quale, in qual'n senso? Ja, Gott ist kein Mann, obwohl, obwohl man uns das beigebracht hat, aber, in der Bibel gibt es ganz viele Namen für Gott und, die Übersetzungen sind zum Teil falsch. Es steht in der, in unserer deutschsprachigen Bibel sechstausendmal Gott, der Herr. e questo è un po' falsetto, lo sappiamo inizialmente e io vorrei chiederti se Dio è un uomo. E' un nome per Dio, effettivamente nella Bibbia in tedesco Dio è stato nominato come il Signore, appunto il Signore al maschile e questo è semplicemente sbagliato. Che cosa pensa lei invece? Pensa che Dio sia un uomo inteso come essere maschile? Beh sì. Anche perché l'interpretazione del Vangelo oppure della Bibbia. L'interpretazione del Vangelo varia sempre, secondo uno come lo vuole cambiare insomma, ma di per sé è sempre quello, un essere umano che è un uomo. Penso che è un uomo e è un uomo. Allora purtroppo non siamo d'accordo. Come? Allora purtroppo non siamo d'accordo. Rispetto al disaccordo. Adesso magari diamo spazio a qualche altra domanda. No, in effetti su questo discorso potremmo parlare a lungo, no? Sul fatto che si è sempre, sì, come ha detto Franca Rame. Come ha detto Dio è donna, Dio è comunista. E qual è la terza cosa? Non mi ricordo. Comunque non importa, non è che deve essere né... No, è che sotto la falsa universalità del termine uomo è sempre stata inserita anche la donna, no? E quindi su questo è stato molto scritto e detto insomma. Ma poi non è questo forse neanche il momento di discutere insomma. Se ci sono altre domande, noi volentieri, se no passo ancora il microfono alle nostre ospiti per un'ultima battuta e concludere l'incontro. Ina Pertorius. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Effettivamente mi è concesso fare un'ultima osservazione. Io purtroppo non sono riuscita a capire proprio tutto, tutto, tutto perché era in italiano. Comunque volevo semplicemente ribadire che anch'io sono in qualche modo dipendente da internet, dalla rete, sono su Twitter, su Facebook, ho un blog. Effettivamente posso soltanto incoraggiare le donne a fare proprie queste risorse, a fare di esse un loro spazio, in modo tale che non debbano semplicemente aspettare che il caporedatore dia loro l'ok, ma che possano pubblicare loro stesse qualcosa. Mi preme effettivamente incoraggiarle a farlo, a far sì che diano tramite anche la rete adito a dibattiti femministi e di genere. Grazie mille. A proposito della rete direi che non è solo questione di donne, perché ormai l'editoria classica sta morendo. Non so se è un bene o un male, però è così, quindi ci rimane solo la rete. Molti vogliono ancora leggere il libro classico, tenerlo in mano, però purtroppo sta diventando una cosa che non rende nessuno. Quindi dobbiamo prendere le redini in mano ancora una volta. Prima che fosse questo terreno diventino conquistato da quelli che ormai scappano da fonte di denaro che era lì, che venga qua, perché ovunque le donne prendano potere, non so se lo sapete, è comunque una sacrosanta verità, ogni campo dove arrivano le donne in maggioranza i guadagni calano, perché questa è una regola. Adesso a questo punto non vorrei che questa occasione la perdiamo di nuovo, perché noi siamo arrivati alla rete perché non c'è altro. Però quando anche gli altri, i moglos, arrivano alla rete perché non hanno altro posto, ho paura che ci scaccino. A questo punto bisogna tenerli un po' di tenere a duro il nostro territorio conquistato. Io non mollo. Allora, sicuramente ti arrabbierai con me perché io veramente fino a due o tre mesi fa non sono stata una grande seguitrice delle tecnologie, diciamo. Però ultimamente sto capendo l'importanza, particolarmente mi è cambiato proprio lo sguardo, quello che ho detto prima, queste rivolte sono successe anche nel Medio Oriente, però in Turchia sta succedendo qualcosa veramente diversa. Quindi la possibilità di poter seguire, che io stando lontano veramente mi fa sentire male di non poter partecipare ad un evento storico della nostra storia, però mi sento comunque coinvolta alla storia grazie alle tecnologie. Per questo dico che veramente sto capendo l'importanza di questa tecnologia, di essere coinvolta. Nel momento reale è una cosa che cambia veramente tanto. Bene, allora grazie. Grazie. E la nostra traduttrice, Federica Pisano, che così bene ci ha seguito nell'incontro di oggi. Grazie a tutti e a tutte, grazie a leggendo Metropolitano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.